Ciao a tutti, anche per noi è un piacere, grazie al consul per l'introduzione, più che un piacere probabilmente per noi qui oggi, anzi stessa probabilmente, in senso più di dire che è un onore, un motivo di orgoglio essere qui, i ragazzi mi hanno sottolineato in settimana come l'Ellas è ormai oltre un ventennio che è a fianco di Apio, abbiamo iniziato a sostenere questa fantastica realtà nel momento in cui il periodo Fanna viene l'addio al calcio giocato, stamattina io sono venuto qui a distanza di un anno e mezzo e ho visto insomma qualcosa di meraviglioso, sapere che oggi è una realtà che accompagna la crescita dei nostri bambini, siamo venuti a rendere orgogliosi chi oggi sostiene questa associazione, chi oggi è il pilastro in queste situazioni, quindi volontari e le famiglie, tutti i medici specializzati, perché abbia una realtà meravigliosa, abbia una realtà che deve crescere e che da oggi deve migliorare e deve avere un supporto sempre maggiore. Ricordiamoci qual è l'obiettivo, qual è lo scopo, uno scopo nobile e tutti noi dovremmo oggi essere consapevoli che basta davvero poco, rendiamo conto quando vengono qui i nostri ragazzi della prima squadra, come basti davvero poco per dare la possibilità ma meno di sorridere, per farlo stare meglio e quindi noi ogni giorno nel nostro piccolo dobbiamo cercare di porci questo come obiettivo. Ringrazio Apio per l'opportunità, che c'è da ringraziare e anche per l'opportunità che c'è da ringrazio dei partner importanti come Tespa e Prudup, che insieme a loro abbiamo fatto questo percorso e sono sicuro che continueremo a farlo, ma quello che mi preme sottolineare è che c'è bisogno di tanto e tanto di più, questo deve essere davvero un inizio, deve essere un inizio e questa associazione, questa realtà che si regge sul volontariato ha bisogno di un supporto maggiore, quindi quello che mi auguro è che veramente tutti sentano proprio questo obiettivo e faccio in modo che abbia o continui una crescita sempre più importante e che questo diventi il punto di riferimento per questa fantastica realtà. Complimenti a tutti e grazie ancora per averciato la possibilità di accompagnarvi in questo percorso. Grazie a tutti! Grazie a tutti!